Giornata del socio per la società operaia di mutuo soccorso di Gubbio che domenica 21 novembre si è data appuntamento per fare il punto sull'attività svolta durante l'anno e programmare il futuro. Novità assoluta, alle ore 9 la visita al cimitero con la posizione di una corona di fiori in memoria dei soci defunti. Oggi per la prima volta abbiamo portato una corona di fiori al cimitero civico nel ricordo dei nostri defunti della società operaia e oggi è nel 150esimo anno della nostra fondazione. È la prima volta che abbiamo fatto questa manifestazione, speriamo poi che con gli anni la manteniamo perché ci sembra un doveroso omaggio che facciamo a tutti i nostri defunti e anche a tutti i nostri soci. La cerimonia è stata accompagnata dalla benedizione impartita dal parroco di Sant'Agostino, padre Giuseppe Piervincenzi, a seguire l'assemblea nella sede di Via Gabrielli e quindi il pranzo sociale al Parco Tele Cappuccini. La società operaia è stata fondata nel 1865 e si prefigge scopi assistenziali, culturali, formativi, ricreativi e di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite. Attualmente conta oltre 500 soci, tra quelli onorari c'è anche Giuseppe Garibaldi.